Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza, riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l'attenzione. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. 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 a tutti. 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 Grazie a tutti. A questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale e il luminoso verrà spento. Vi raccomandiamo di aprire le capiliere con cautela per evitare la caduta esigente e di non dimenticare effetti personali nella tasca della poltrona di fronte a voi. Vi piace un bel recente di volare con la vitalia e ci auguro di vedervi presto di nuovo a bordo per riederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta arrivati al barcheggio e aperte le porte, rimanete seduti al vostro posto. Iniziamo dalla prima fila, solo quando la fila davanti alla vostra sarà libera potrete alzarvi, raccogliere i vostri elementi personali e raggiungere con ordine l'uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.